Domenica live, Massimo Ranieri parla alla figlia. Ospite della Barbara D'Urso, Cristiana Calone, il vero nome del cantante napoletano è Giovanni Calone, racconta come all'età di 35 anni abbia incontrato per la prima volta il padre Massimo Ranieri. Prima spiega la forza della madre Franchina, recentemente scomparsa. Lei ha avuto la forza di non parlare mai male di mio padre e quando lo vedevamo in TV, mi diceva amalo perché lui ti ama e io l'ho amato tanto e lo amo tanto. Poi racconta la sorpresa che le ha cambiato la vita ero in cucina e mia madre mi ha passato il telefono e mi ha detto è tuo padre. Era la prima volta che lo sentivo al telefono e mi ha detto che avrebbe voluto che fossi ospite della sua trasmissione. Pensavo di dover stare tra il pubblico e sono andata con un jeans e una maglietta, invece poi mi ha presentato a tutti come sua figlia. Grazie.